La forza è proprio nella rete, è una forza collettiva di donne. Grupi di autoaiuto, percorso per trovare lavoro, trasferire la sofferenza, il desiderio, il bisogno di giustizia nelle aule dei tribunali. Anche riguardare la parola libertà. Cosa vuole questa donna? Come vuole uscire dalla violenza? Le donne possono denunciare. Serve continuità. La violenza tocca in Italia a una donna su tre. Un fenomeno che sappiamo ancora è sommerso al 93%. L'autonomia dei centri. La donna che è al centro della sua vita e delle sue scelte. Non essere creduta vuol dire essere violentata una seconda volta. Non rispondiamo solo all'emergenza, vogliamo cambiare la società, il mondo. Ogni anno, 73 centri della rete Dire accolgono oltre 15.000 donne che hanno subito violenza. 45 case rifugio della rete Dire ospitano oltre 680 donne con più di 700 figli minori. Autenticità. Il gruppo che ci aiuta nel cambiamento. Accoglienza e rifugio. Autorità delle donne. Libertà delle donne. Autodeterminazione. Forza e cambiamento. Sorellanza. Un centro antiviolenza della rete Dire ti aspetta. Da 25 anni centinaia di donne aiutano altre donne ad uscire dalla violenza.